Che lavorata! Che terre! Ci vediamo un castellino? Ma dove siamo? Persi, eh! Non è tu un bicchiere? Il vino e il cartone? Come il latte, è comodo! Castellino, è buonissimo! Chi lo dice? Maria, butta la penna! Brigata Giulia, classe 35! Un vecio! Allora, com'è il castellino? Buonissimo! Maria, butta la penna! Anche lui al vino? Non la penna, la pasta! Castellino, quello leggero. Se vuoi nel vino e il cartone! Grazie!